check dell'arbitro e si comincia con la partita spillo birra e cucina e celsi rispettivamente maglia blu celsi e maglia nero e rossa spillo birra chi vinca il migliore ma mantiene ancora il possesso balla il celsi si intromette fa ripartire spillo ma ancora difesa del celsi molto attenta e fa ripartire i suoi ottima rincursione centrale il tiro buona la parata buona risposta del portiere e riparte sulla destra velocemente buona la finta ancora in possesso balla il celsi buono il cambio dall'altra parte c'è la sovrapposizione ma viene ignorato ma lo scambio è vicino il destro chirurgico ed è 1 a 0 per il celsi che gol ancora celsi sulla sinistra non forza la giocata cerca di mantenere il possesso balla forte del vantaggio non ha la finta in mezzo a 2 il filtrante ottimo ancora sulla sinistra bella l'imbucata prova il sinistro la parata del portiere il centro che scarica sulla destra di nuovo incursione centrale ma cerca uno scambio ma è attenta spillo riparte col destro di molto fuori vai allo scarico riparte spillo ci sarà fine primo tempo sul riposo spillo 0 celsi 1 sicuramente dovrà fare qualcosa di più spillo se vorrà recuperare addirittura vincere il match riparte il secondo tempo dopo il riposo 1 a 0 sorprendente del celsi che difende bene riparte velocemente spillo dovrà fare sicuramente qualcosa di più se vuole recuperare questa partita addirittura vincerla ancora prova lo scarico in possesso balla spillo ancora non approfitta però ancora un rimpallo favorevole lo scarico e se la trova lì il portiere ancora scelta a mano orale buona finta lo scarico non è precisissimo e può ripartire adesso spillo sicuramente ha preso molta più fiducia buona la finta ancora il sinistro il palo clamoroso ancora in possesso balla 10 che scarica escono nel tapina ancora il portiere miracolo due volte addirittura spettacolo in campo si allunga sulla sinistra ancora il tapin facile che non riesce ma la mantiene in campo poi lo scarico è solo ed è facile adesso 1 ad 1 finalmente questo tapin riesce e pareggia spillo finta su finta scarico al centro ancora di nuovo la finta chiude bene il celsi guadagna a caccio d'angolo spillo a te curto ancora il portiere miracoloso prima il difensore poi il portiere troppo ma ancora celsi a mantenere il possesso balla la butta e spillo guadagna rimessa laterale buona centro il sinistro che gol ottima la coordinazione ottimo il controllo passa in vantaggio spillo 2 a 1 ancora il celsi in bucata centrale buono scarico buona finta prova di punta ma il portiere para facilmente ora al sinistro tensione il riflesso del portiere che non permette al celsi il pareggio guadagna fallo spillo e riparte veloce 3 contro 2 guarda il sinistro chirurgico e la chiude qui 3 a 1 ancora celsi un'incursione centrale numero 10 prova ancora la finta buono scarico il destro di poco a lato pericolosissimo spillo conclude la gara vincendo 3 a 1 e prende in mano il secondo tempo e aguanta il vantaggio per il primato solitario nella classifica 3 a 1 nulla da dire modelis но d qui dimmi dimmi dimmi